L'uomo del monte, anche Erice scalda i motori per le prossime amministrative diversi, gli aspiranti alla carica di primo cittadino della vetta. Il sottosegretario Lotti, a Mazzara, questa mattina il braccio destro del premier Renzi è stato in provincia e ha visitato l'ospedale a Belaiello, accompagnato dal direttore generale dell'ASP, Fabrizio De Nicola. Un rogo tutto da decifrare, gli investigatori si sono messi sulle tracce di chi possa aver voluto dare alle fiamme le due auto che la scorsa notte sono andate a fuoco nella via Lombardia-Casa Santa Erice. Le ragioni del no, iniziativa della CGL in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre e per lo sport avanti con lavoro. Il centrocampista del Trapani Igor Coronado, dopo più di un mese di stop, ha segnato il gol del pareggio a Perugia. Il Trapani ha lavoro per preparare la sfida di lunedì sera contro l'ASP. Eccoci con la diretta della seconda edizione. Anche Erice scalda i motori per le prossime elezioni amministrative nel prossimo servizio, tutti i nomi in campo che preparano la corsa a primo cittadino della vetta. A chi lascerà lo scettro Giacomo Tranchida? Lui ha già deciso. Il suo uomo, anzi la sua donna, è Daniela Toscano. Sempre più fedelissima della sua giunta nel corso degli anni, sarà lei a sfidare alle ormai immancabili primarie democratiche e chiunque si candiderà fra i dem il prossimo 15 gennaio, data che con ogni probabilità incolorirà i candidati del PD per le amministrative della primavera 2017. Al momento l'unico ospitante sembrerebbe il roggerelliano Franco Todaro. Il professore Damesi batte il territorio convinto della bontà del suo progetto politico, incontrando centinaia e centinaia di cittadini, così come i capi bastone del territorio. Ma c'è da scommetterci, i pretendenti non finiranno qui. Alla finestra aspetta il suo momento il presidente del Consiglio Comunale, Nini Romano, ormai in freddo da mesi con il primo cittadino. Nella coalizione il PSI sta alla finestra con la candidatura della prima ora del consigliere Nacci, che per la verità ha un po' perso la spinta propulsiva, al di là delle scritte ufficiali di partito nelle locandine. In campo anche l'avvocato Maurizio Sinatra, l'ex presidente d'Aula, vuole ritentare l'assalto allo scanno più alto dell'amministrazione ericina, da sempre un suo sogno nel cassetto. E per farlo si è affidato ad un progetto civico che con il suo socio politico di sempre, Livio Daedone, ha avuto come riferimento il compianto ex deputato regionale Vincenzino Colicchia, ex riferimento in provincia di Toto Cardinale, leader di Sicilia Futura. Un progetto civico che potrebbe trovare la sponda del centrodestra. Il senatore Dalì, come sempre Kingmaker Daria, non ha però ancora deciso le sue mosse. Non è una novità il suo legame politico degli ultimi mesi con l'onorevole Livio Marrocco, vedendolo bene per la corsa a sindaco di Erice. Ma l'ex deputato regionale di Futura Libertà è molto scettico sulla candidatura, soprattutto per sensibilità verso i cittadini, non avendo ancora chiuso la vicenda Spese Pazze, che lo vede imputato in primo grado, nonostante siano stati di gran lunga ridimensionati negli importi le ipotesi iniziali contestate quando guidava il gruppo a Palazzo dei Normanni. Fra i progetti civici, ormai da tempo lavora sul territorio la consigliera Cettina Montalto, che con il suo, nati liberi, si sta sempre più capillarmente radicando trasversalmente, anche se in molti sono convinti che alla fine dovrà parentarsi con una delle coalizioni tradizionali, se vorrà avere un ruolo da protagonista nella prossima amministrazione regina. Probabile che questo avvenga con Forza Italia, partito che l'ha eletta alla scorsa tornata e con il quale suo compagno, Luigi Manu Guerra, da sempre suo consigliere politico, ha più di un filo diretto. A Trapani con il senatore Dalì, a Palermo con il suo mentore Gianfranco Micichea. E di Grillini? Pure in vetta si registra un profilo basso che potrebbe esprimere anche qui una candidatura leggera, confidando sempre più sulla voglia di cambiamento dei cittadini, non puntando su un nome conosciuto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri oggi è stato in visita a Mazzara del Vallo per visionare due importanti strutture, la Bele Aiello e il Porto Cittadino. Una visita per verificare lo stato dell'arte di due vitali snodi cittadini, il porto di Mazzara del Vallo e l'ospedale a Bele Aiello. Infrastrutture previste nel patto per la Sicilia, concordato con il Governo nazionale nei mesi scorsi, e che il sottosegretario Lotti oggi ha voluto supervisionare di persona. Come prima tappa, il braccio destro del Premier ha avuto la Capitaneria di Porto, avendo assicurato che di lì a breve sarebbero stati fatti i lavori di dragaggio dei fondali. L'incontro in Capitaneria per verificare lo stato dell'arte dei lavori sul porto, l'illuminazione, il dragaggio, tutte opere previste nel patto con la Regione Sicilia. Avevamo detto che il patto sarebbe stato qualcosa di concreto, dei denari concreti, certi, che il Governo avrebbe verificato insieme alla Regione Siciliana. E questo sta accadendo. Quindi sfruttare queste occasioni per verificare, controllare e far sì che i cittadini abbiano quei benefici dal patto con la Regione Sicilia, il Governo italiano, che necessitano e che da troppo tempo stavano aspettando. Erano vent'anni che si parlava di queste importanti opere sul porto di Mazzara del Vallo. Oggi finalmente potremo iniziare a vedere i lavori. Ne abbiamo discusso prima in Capitaneria. Credo che a giorni possa essere esploitata, proprio a giorni, la vicenda burocratica che riguarda la gara e poi finalmente possono partire i lavori per il dragaggio del porto. Dopodiché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si è spostato al nuovo ospedale a Belagiello, accompagnato dall'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi. Dove ad attenderli c'era il direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabrizio De Nicola. Il numero uno della sanità in provincia ha molto apprezzato la sensibilità politica del Governo nazionale, citando la Sicilia di oggi come la terra dei fatti e non più delle parole o delle promesse non mantenute, quando non venivano date risposte concrete ai progetti messi in cantiere. Oggi anche la nostra isola risponde a standard qualitativi ed operativi nel mondo della sanità, in linea con le altre realtà nazionali, ha dichiarato De Nicola. Parole molto apprezzate da Luca Lotti, che poi si è espresso sul nuovo presidio sanitario. Ascoltiamolo. E poi un'altra occasione per visitare un'opera così bella, che mi auguro presto possa essere fruita da tutti i cittadini di Mazzara del Vallo, e non solo, un ospedale bellissimo, un qualcosa che tra qualche settimana è pronta. Insomma, c'è qualcosa che si muove, c'è una Sicilia in movimento, c'è qualcuno che sta lavorando per il bene dei cittadini, noi siamo qui a supportarlo. Ad accompagnare il fedelissimo di Renzi dicevamo l'onorevole Baldo Gucciardi, ma l'assessore alla salute arrivava a Mazzara del Vallo, reduce da un incontro all'ordine dei medici, chirurghi degli odontoiatri della provincia di Catania, alla presenza del premier Renzi, giunto in Sicilia per un tour de force di due giorni, che sta toccando nove tappe in giro per l'isola, promuovendo a tamburo bottente le ragioni del sì al prossimo referendum del 4 dicembre, dove ha illustrato dal palco convegnistico i progressi della sanità siciliana sotto la sua direzione. Un discorso molto apprezzato dal presidente del Consiglio, che ha fatto incassare a Gucciardi un importante risultato politico, ricevendo i complimenti del suo segretario nazionale, definito da Renzi un ottimo assessore, impegnandosi inoltre a sostenerlo davanti all'ordine dei medici di tutta l'isola e centinaia di addette a lavori, ieri presenti nel capoluogo etneo. E questo proprio nei giorni in cui l'assessore alla salute firmava il provvedimento di proroga per oltre 2.000 medici precari nella sanità in regione per altri sei mesi. Un rogo da decifrare. Gli investigatori hanno ampliato a 360 gradi i possibili moventi delle fiamme che sono state date alle due vetture nei pressi dello stadio provinciale. Due atti vandalici in pochi giorni e questo è il bilancio che l'artista trapanese Giovanna Colomba ha dovuto trarre da degli episodi che oggettivamente lasciano sgomenti. Il danneggiamento della vetrina del suo atelier in Corso Italia e l'altro ieri notte le fiamme alla sua auto e a quella della madre. Una Citroen e una Suzuki andate interamente distrutte sotto l'abitazione di quest'ultima in via Lombardia a Casa Santa dalle parti dello stadio provinciale. Episodi indubbiamente inquietanti che chiaramente sono l'attenzione degli investigatori per un più che possibile collegamento doloso vista la tempistica ravvicinata. E a darne comunicazione, oltre che gli organi di stampa, è stata coraggiosamente la stessa Colomba nel proprio profilo Facebook. Ovviamente non si esclude che possa essere una casualità e che non ci sia nesso fra gli episodi, ma a rafforzare la teoria fra gli investigatori dell'arma dei carabinieri cui sono state affidate le indagini assieme al Corpo dei Vigili del Fuoco di Trapani e il fatto che la giovane e brillante artista trapanese non per notti spesso presso l'abitazione della madre, ma conviva dalle parti del centro storico assieme al suo compagno, che fra l'altro è un magistrato in servizio in un importante ufficio del Tribunale di Trapani. Un altro particolare inquietante che ha fatto ampliare a 360 gradi il raggio d'azione degli investigatori non tralasciando alcuna pista, sperando chiaramente che si tratti di atti vandalici distinti e separati e che non abbiano alcun nesso fra di loro. Anche se fra le comprensibili bocche cucite degli investigatori dell'arma, trapelerebbe che il movente potrebbe non più essere quello ventilato in un primo momento dalla squadra mobile, ossia di tentato furto. Insomma, una vicenda delicata, denunciata coraggiosamente dalla stessa artista trapanese, che aspetta ora d'aver fatta piena luce con l'individuazione dei responsabili per essere assicurati alla giustizia e poter ritornare serenamente al proprio lavoro. Deteneva in casa 7 chili di marijuana. Giuseppe Gulotta, di 23 anni, di Campobello di Mazzara, è stato arrestato dai carabinieri. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Torniamo invece a parlare della 66esima giornata nazionale del ringraziamento. Abbiamo intervistato Enzo D'Aidone, di Federagri, che ci parla della partecipazione all'iniziativa del 12 e 13 novembre scorsi. Sicuramente è stata un'esperienza grande. La manifestazione nazionale, il fatto che sia stata celebrata a Trapani, ci inorgoglisce e ci rende merito anche del lavoro che si fa quotidianamente. La questione legata ai seriali, come ha detto Monsignor Longoni, sostanzialmente è un cibo umile che serve a sfamare la fame nel mondo. Non a caso ci sono 25 milioni di esodati ambientali che provengono da Sudafrica proprio per la fame. Motivo per cui diciamo che si è preferito nell'anno della misericordia il seme, che è il significato sostanzialmente della coltivazione. La manifestazione si è sviluppata, come le diceva, a Trapani, negli uffici pescovili, dove c'è stato un bel convegno e si è dibattuto sostanzialmente dei problemi agricoli e anche della dignità del lavoro agricolo. Successivamente a Mazzara abbiamo avuto il piacere di rappresentare in Piazza della Repubblica le aziende agricole, per quanto ci riguarda avevamo delle aziende rappresentate da estracomunitari per la produzione ortive, allevatori, prodotti tipici della Sicilia, piante e fiori, miele, olio, vino, olive, sostanzialmente miele, pane nero, cioè sostanzialmente le eccellenze che questa provincia offre. Lecce che legate alle bellezze naturali potremmo fare veramente un boom dal punto di vista economico. Questa sera alle 21 andrà in onda sulla nostra emittente lo speciale realizzato in occasione della 66esima giornata nazionale del ringraziamento che Telesud ha seguito in ogni suo momento tra Trapani e Mazzara, con interviste ai protagonisti, immagini sulle iniziative collaterali inserite nell'ambito dell'evento e poi con la celebrazione eucaristica in cattedrale a Mazzara con l'Angelus del Santo Padre, contenente un messaggio rivolto a tutti i presenti e ai protagonisti della due giorni a conclusione delle iniziative. L'appuntamento dunque è per questa sera alle 21 su Telesud. Per seguire nel dettaglio la grande manifestazione nazionale che oltre al mondo religioso ha coinvolto anche cinque sigle sindacali, Confagricoltura, Federagri, Fai Cisle, UGC Cisle e Acli, i cui esponenti sono intervenuti da tutta Italia. Yvonne Vento è la nuova coordinatrice provinciale delle donne socialiste. Yvonne Vento è la nuova responsabile del coordinamento provinciale delle donne socialiste di Trapani. È stata letta per acclamazione nel corso dell'Assemblea svoltasi ieri pomeriggio nei locali dell'Università Unicusano. Del coordinamento preseduto da Milli Pellegrino fanno inoltre parte Graziella Gerardi, Rosanna Lopresti, Esther Crescenti, Stefania Basilico e Lorena Di Bona. Erano presenti all'incontro la segretaria provinciale del PSI, Vita Barbera, ed una vasta rappresentanza del gruppo dirigente del partito di tutta la provincia. Noi oggi come Partito Socialista e coordinamento delle donne ricominciamo, ripartiamo da dove avevamo lasciato, ripartiamo con più tenacia da dove avevamo lasciato e sicuramente con una progettualità molto più aperta a quella che io definisco la sorellanza progettuale. Quindi la cosa dovrà partire sempre come una sorta di condivisione e partecipazione e chiaramente ci porremo anche degli obiettivi, quantomeno degli obiettivi di primo periodo, non soltanto sul piano sociale, anche in vista dell'imminente Natale, e quindi con tutta una serie di iniziative che vogliamo confermare. Diciamo perché il Partito Socialista già ogni anno realizza l'albero di Natale nell'aulo dell'ospedale, ma quest'anno proprio per evitare che sia un'iniziativa asettica fino a se stessa aggiungeremo tutta una serie di interventi sul piano sociale che speriamo siano coordinate anche all'interno dell'intera provincia. Dopodiché abbiamo rispolverato un progetto che avevamo cominciato ad elaborare lo scorso anno e che speriamo di attivare entro la primavera del 2017, che riguarda proprio l'intenzione di creare una vera e propria scuola politica con 4-5 appuntamenti all'interno dei quali si alterneranno sia docenti universitari sia anche le esperienze di quello che in realtà la politica sul territorio la fanno. Per la campagna elettorale chiaramente io sono del parere che i bisogni delle donne possono essere anticipati e anche realizzati se a manifestarli e portarli avanti sono le altre donne. Quindi siccome in democrazia in realtà contene numeri, più donne al potere nella stanza dei bottoni, più possibilità ci sono anche di abbattere quegli ultimi stereotipi che ancora esistono e che tendono ad appiopparci. Per cui ci auguriamo che, soprattutto per la campagna elettorale che ci attende nella provincia, abbiamo quattro importanti tornate elettorali, tra cui anche Elice che è un po' delicata per la storia del nostro partito, ci auguriamo un grande successo rosa, proprio a dimostrazione che insieme si può fare sempre meglio e sempre di più. Questa mattina all'Hotel Cristal si è svolto un convegno che ha interessato CGL, Cisle, Will. Il tema dell'incontro è stata l'intesa sulle pensioni tra sindacati e governo sottoscritta lo scorso 28 di settembre. Abbiamo ascoltato il segretario generale della Will, pensionati Trapani Leonardo Falco, il segretario generale SPCGL Sicilia Maurizio Calà e il segretario generale FNP Cisle Palermo Trapani, Mimmo Di Matteo. Abbiamo ottenuto la quattordicesima mensilità che fino adesso veniva erogata a una fascia di pensionati con un reddito di 750 euro, l'abbiamo elevata a 1000 euro. Quindi si può dire che i pensionati che hanno una pensione lorda di 1000 euro a luglio si ritroveranno con questa somma aggiuntiva nelle pensioni. Abbiamo avuto l'aumento della nota axiaria per i pensionati, quindi da 7.750 a 8.125. Abbiamo ottenuto il cumulo dei contributi nelle varie casse. Significa che ad oggi i futuri pensionanti non dovranno più spendere soldi per un'eventuale ricongiunzione, ma con il cumulo potranno avere una prurrata per ogni cassa di appartenenza. C'è già una prima fase sui lavoratori attivi e sui giovani. C'è una seconda fase che è tutta da discutere perché qual è il punto? La Fornero in questo paese ha fatto danno. Ha bloccato i lavoratori che volevano andare in pensione e ha massacrato i giovani perché in realtà se non si va in pensione non si entra in un mondo del lavoro che è in crisi. Noi dobbiamo superare quel modello Fornero, dobbiamo renderlo più flessibile, dobbiamo mettere nelle condizioni le persone che non ce la fanno perché fanno lavori gravosi, usuranti, ad andare in pensione. Dobbiamo dare una possibilità ai giovani di avere domani la pensione perché il punto vero, la cosa più terribile, è rompere questo sistema di solidarietà e che i giovani possono dire domani non solo di non poter andare in pensione ma a chi ci va di andarci con una pensione bassa. Questo è un paese civile e non se lo può consentire. Gli incontri fino ad oggi ci hanno dato risultati positivi e continuiamo a perseguire gli incontri per realizzare la piattaforma che abbiamo presentato. Infatti il giorno 5 dicembre c'è un ulteriore incontro fra governo e sindacati. Nella nostra piattaforma c'è un punto importante, quella di avere individuato dei lavori gravosi e pesanti che non rientrano fra quelli usuranti. Alcune categorie sono state individuate e sono rimaste esclusi i lavoratori del settore agricolo. Riteniamo che questa categoria ha buon diritto a essere individuata fra i lavoratori pesanti per cui hanno il diritto, hanno la necessità di poter anticipare l'età pensionabile. L'altro aspetto importante è la separazione della previdenza dall'assistenza. Noi vogliamo fare notare a tutti i cittadini che le pensioni non sono così onerose in questo Paese, che il bilancio dell'impese per le pensioni è inattivo e quindi togliendo la parte assistenziale che deve gravare sulle finanze dello Stato noi possiamo recuperare margini ulteriori per chiedere ulteriore attenzione e aumento per i pensionati di oggi e per i pensionati di domani. La CGL ha illustrato le ragioni del no per il prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre. Perché no? È la domanda con cui il segretario generale della CGL di Trapani, Filippo Cutrona, ha aperto l'iniziativa Le ragioni del no, organizzata dal sindacato in vista della referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Nella gremita sala conferenza dell'Hotel Crystal, il segretario Cutrona ha parlato anzitutto delle ragioni per cui la CGL ha deciso di partecipare, al dibattito sullo referendum, prendendo anche una propria posizione contro la riforma della Costituzione. L'ha fatto già nel 1946 con il segretario della CGL Giuseppe Di Vittorio, componente della terza sottocommissione al Parlamento nazionale, e lo vuole fare oggi. E oggi ha maggior ragione, soprattutto considerando che questa è una riforma fatta male, sbagliata e pasticciata, che rappresenta ben poco di quello che invece bisognerebbe fare per l'Italia. È una riforma che concentra il potere, che riduce gli spazi di democrazia e certamente non dà quelle opportunità che il Paese oggi meriterebbe. Oggi il Paese ha bisogno di altri, bisogno del Paese di lavoro, di sviluppo e di occupazione. Invece oggi tutto il Paese è concentrato su una riforma costituzionale che non serve in questo momento al Paese e ci riserverebbero altre cose. Per approfondire le ragioni del no, sono intervenuti i coordinati dalla componente della segreteria della CGL Giacometta Giacalone, il segretario generale della CGL Sicilia, Michele Pagliaro, Armando Sorrentino dell'Ampi Sicilia e Silvio Mazzarese, ordinario di diritto civile all'Unipa. Le modifiche costituzionali, così come sono congegnate, e guardate anche rispetto alla legge elettorale, che è vero che non è materia esattamente di modifica, ma lo stesso governo l'ha proposta nello stesso periodo mettendo la fiducia al Senato, quindi rappresenta l'idea del governo. Alla fine, se uno guarda la modifica costituzionale, meno forza del Parlamento rispetto al governo, meno poteri alle regioni e alle comunità locali rispetto allo Stato centrale. e quella legge elettorale con cui un partito che al 20% dei voti potrebbe avere il 50% dei deputati, che tutte le cose economiche e sociali la votenebbero solo la Camera, quel modello lì è un modello di concentrazione delle decisioni. E noi non pensiamo che dentro una crisi così grave di questa abbia bisogno il Paese. Briciole sul mare, la commedia indipendente scritta, diretta e interpretata da Walter Nestola, autore della sceneggiatura, a quattro mani con Guido Cerniglia e in concorso per il Davide di Donatello. Il film viene descritto come un sentito maggio alle terre del sud, forti di passioni, ricche di colori e con quel calore tipico di chi sa essere ospitali ed accogliente. Nello specifico un tributo alla Sicilia e alla Puglia, tra l'unicità dei panorami mozzafiato che caratterizzano queste terre dal sole, capace di stregare chiunque lo abbia esplorata. Una commedia agrodolce, girata tra Marsala, Copertino e New York, attorno alla quale gravitano numerosi personaggi, alcuni dei quali scelti tra gli abitanti del luogo e presi quindi dalla strada. Il film narra la storia di un pescatore salentino che quotidianamente si reca a pesca con la sua barca per appagare il suo desiderio di relax e quel senso di pace che lo pervade quando è in mezzo al mare. Per uno strano caso del destino, un giorno si addormente e quando si risveglia si rende conto di trovarsi nelle acque siciliane. In questa terra assolata avrà modo di conoscere Salvo, un giovane che si appresta a prendere coscienza della sua vita futura e si renderà testimone di un omicidio che tingerà di giallo la sua permanenza sull'isola. Tutto sembra indirizzarsi verso un finale tragico, a un colpo di scena lo rende invece grottesco e comico da risvolti decisamente romantici. Signor Chirco, un riconoscimento importante per Briciole e sul mare, Davide Di Donatello, basta soltanto il nome, è una grande candidatura, insomma qual è la sua emozione del momento? La mia emozione è indescrivibile perché sinceramente non mi sarei mai aspettato di arrivare a così tanto. Cioè adesso per carità stiamo con i piedaterra, si tratta di una partecipazione a un concorso, il mio film è stato inserito in questo concorso e devo dire che si trova in mezzo a certi nomi diciamo di altra levatura cinematografica tipo Sorrentino eccetera e come film indipendente trovarsi ad oggi risulta l'unico che si trova in concorso ad oggi perché il concorso vuoi scadere al 31 dicembre quindi per me è un onore immenso voglio dire ed è una soddisfazione incredibile. Ecco, diciamo che sono quasi senza parole, ecco come si suol dire. Favorire il processo di esdebitazione, reinserire debitori nel circuito produttivo per non far morire l'economia del territorio sono alcuni degli argomenti trattati nel seminario regionale sull'operatività e il ruolo del gestore negli organismi di composizione della crisi che si è tenuto al Collegio dei Gesuiti a Mazzara del Valle. Il seminario è stato organizzato dal Polo Universitario Unicusano di Trapani, Cassavetrano e Vigevano ha avuto come obiettivo quello di informare semplici cittadini, commercianti e imprenditori sulle possibilità di svincolarsi dalla tremenda morsa del sovraindebitamento. Nell'ambito del seminario è stato presentato per non perdere la testa il manuale scritto dall'ingegnere Vito Abate direttore dei Poli Accademici Unicusano di Trapani, Cassavetrano e Vigevano uno strumento pratico per la gestione proprio della crisi da sovraindebitamento. Sono state fornite indicazioni per uscire dalla condizione di crisi sfruttando degli strumenti messi a disposizione della legge anche se poco conosciuti. È stato evidenziato che proprio il territorio italiano e siciliano è particolarmente colpito con oltre 100 suicidi da gennaio a giugno. Dal 2012 l'Istat non li rileva più su disposizione del Governo. Abbiamo un territorio completamente indebitato la gente indebitata non sa che c'è uno strumento che consente di poter uscire dalla crisi quindi noi con questa iniziativa, con questo manuale andiamo a fare altro che indirizzare le soluzioni per sdebitarsi in maniera totale nel senso che non restano neanche le segnalazioni CRIF e Banca d'Italia per quanto riguarda le procedure anche di incaio o di protesti o quant'altro quindi dobbiamo informare il territorio per le soluzioni in essere. Anche se il debito è di un milione di euro il gestore può arrivare a una mediazione e far pagare 300 euro al mese e la prima casa è considerata ora un diritto inalienabile. Hanno partecipato all'evento e tra gli altri Alberto Scuderi, presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Marsala Gianfranco Zarzana, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsala Francesco Del Pianta, presidente dell'Associazione Tributaristi e I Mediazione Civile Trapani Gli Avvocati Salvatore Cristaldi, Giuseppe Sciascia Cannizzaro Alessandro Di Girolamo e Giuseppe Bentivegna Non solo sport, il calcio riprendono oggi pomeriggio i allenamenti del Trapani Si gioca lunedì sera al provinciale contro la Spal dopo più di un mese di stop Coronado è entrato durante la partita ha segnato il gol del pareggio Ecco le sue parole Che gira tutto male intorno a noi ci dobbiamo andare forte sempre mentalmente che per me, per la squadra che abbiamo non meritiamo dove siamo sulla classifica però ci dobbiamo guardare anche fra di noi perché dobbiamo e possiamo fare molto meglio di quello che stiamo facendo però pareggiare a Perugia dopo andare sotto mancando pochi minuti per finire la partita anche fatto vedere un bel atteggiamento della squadra che ha lottato fino alla fine e poi anche secondo me se c'era un altro 5 minuti di partita ci poteva portare anche più soddisfazione a casa però non ci lamentiamo lavoriamo come stiamo facendo sempre cerchiamo di fare i punti dobbiamo cercare di migliorare anche a casa perché siamo a casa nostra come detto siamo una bella squadra con giovedoni di tanta qualità in questo periodo manca un po' di mentalmente manca un po' di fiducia però basta che vinciamo una partita per portare avanti e la squadra non sto al top fisicamente ancora poi siamo una squadra dove corriamo tanto Conlobato è un giocatore giovane dove lavora tantissimo c'è tanta voglia di fare bene cerchiamo sempre di lavorare noi la settimana diamo tutto il massimo poi a fine settimana il mister deve cercare quelli 11 che pensa che può fare il meglio dentro di campo in questo periodo ho detto come detto prima manca un po' di fiducia comunque stiamo cercando di lavorare anche su quello il punto è sempre per noi per il mister, per il presidente per i tifosi, per tutti noi dobbiamo cercare anche noi stiamo lavorando cerchiamo di fare anche per noi io sono sicuro che nessun giocatore nessun staff nessun tifoso del Trapani vuole vedere il Trapani in questa situazione qua perché per me non è neanche come ho detto neanche giusto per il giocatore per il mister che abbiamo per il presidente stiamo stando con noi fino alla fine anche ora i momenti non vanno bene anche quando trovi un tifoso per stare ti dà fiducia ovvio la critica c'è sempre perché è anche normale nel calcio però c'è il mister è uno che lavora tantissimo è uno che mi ha dato una mano dall'inizio qua io mi sono trovato bene con il Trapani anche per tutto quello che mi ha regalato lui e adesso vediamo come sono andate le trapanesi nei campionati di eccellenza promozione prima e seconda categorie nella decima giornata del campionato di eccellenza dopo tre vittorie consecutive il dattilo del mister Formisano cade in casa della Parmonval una delle formazioni più in forma del campionato ha subito 15 reti nelle ultime gare non è mai stata in partita a fronte delle due espulsioni subite nella ripresa avrà il suo bel da fare il mister Formisano che dovrà cercare nuove alternative in difesa non naviga tranquillo in Marsala che è stato sconfitto dalla Rivera Marmi incassando non solo la seconda sconfitta consecutiva ma anche l'ira dei tifosi libetani che vogliono risposte dalla società e dai giocatori seconda vittoria consecutiva per il Leppaceco che vince contro un atletico Campofranco che nonostante tutto si è mostrato una spina nel fianco la squadra di mister Chianetta rimane sempre in testa alla classifica con una buona capacità di creare occasioni da gollo e di subire il meno possibile l'iniziativa avversaria sono soltanto due le reti subite finora anche l'Alba Alcamo ha fatto bene in questa giornata e si conferma la seconda forza di questo campionato agganciando il Lettroina prenotandosi per un posto nei playoff il Mazzara non riesce a vincere nemmeno lo scontro salvezza e rischia seriamente di finire nel limbo della zona play-out nella decima giornata del campionato di promozione il Cinque Torri nonostante un'ottima prestazione viene condannata ancora stavolta dal Castellammare il Salemi si riscatta e dome il Castel Termini l'obiettivo della squadra salemitana resta sempre la salvezza il Campobello vince e si avvicina alla zona play-off nell'ottava giornata del campionato di prima categoria ottimo risultato della Libertas Marsala che vince e convince sorte diversa per lo Strasatti che rimane vittima dell'empedoclina Sciacca e Fulgatore non si fanno male lottano per una possibile promozione che sarebbe un ottimo risultato per le due compagini che vanno a caccia della nuova sportiva del Golfo che impone la supremazia del territorio imponendo una prestazione al di sopra delle aspettative nella quarta giornata del campionato di seconda categoria ancora Gibellina che comanda le operazioni nonostante il pareggio contro il Sergio Gioviana rimangono in zona Alcama e Mazzarese che non vogliono perdere di vista la capolista vincendo rispettivamente contro Valderice e San Lorenzo nella media classifica il Cusonaci si ferma e fa avanzare il bianco-arancio che vuole blindare la categoria periodo nero per la Juvenilia che rimane impantanata all'ultima posizione senza gioco e senza cattiveria sarà frutto di una preparazione sbagliata? andiamo a vedere degli appuntamenti di questa sera alle 21 e alle 23 andrà in onda una puntata speciale di Grand Hotel dedicata alla 66esima giornata nazionale del ringraziamento nella prima parte Iana Cardinale introdurrà le interviste ai Vescovi Fragnelli e Mogavero e nella seconda parte trasmetteremo la celebrazione eucaristica con il collegamento in piazza San Pietro per l'Angelus del Papa e adesso pubblicità ma torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del TG e alla prossima Grazie a tutti.